sulle fonti tv ancora consigli di investimento parliamo di bond emergenti attenzione perché in estate potrebbero tornare interessanti bisogna però fare una premessa l'emergenza coronavirus fa esplodere i deficit anche sui mercati emergenti dove i governi corrono a indebitarsi ma attenzione perché se si ferma se ci si ferma questa premessa c'è il rischio di sottovalutare alcune dinamiche i governi dei mercati emergenti infatti quest'anno dovrebbero emettere nuovi bond per 3 mila miliardi di dollari parliamo del doppio rispetto al 2019 esattamente rispetto a un anno fa e quindi con questa considerazione cerchiamo di capire davvero se la parola interessante può essere associata ai mercati ai bond emergenti andrea de gaetano è così grazie dell'invito direi è così con una serie di premesse come giustamente fatto notare che vanno fatte allora per quanto riguarda le emissioni le nuove emissioni in realtà tutti i paesi al mondo le stanno facendo quindi questo questa pandemia ha creato la l'esigenza per per tutte le economie di rilanciare i consumi rilanciare appunto lo stesso prodotto interno lordo per farlo stanno spendendo lo sta facendo l'america è stata la prima l'europa con questo recovery fund ha appena seguito appunto i passi della degli stati uniti la cina continua a stimolare l'economia e ovviamente lo fanno anche altri paesi emergenti e per questo effettivamente c'è più debito e quindi questo non è un fattore apparentemente positivo però c'è da dire vien da dire ma il comune mezzo gaudio nel senso che è una situazione comune a tutto il mondo quindi secondo me questo da un lato riduce appunto la pericolosità nel senso che c'è un rendimento quantomeno nei bond emergenti che in parte compensa il rischio la cosa che secondo me è più assurda in questa fase vedere che ci sono dei debiti che esplodono nelle economie sviluppate e dei rendimenti irrisibili se non negativi quindi il tema è per un investitore in bond quindi un investitore che comunque si aspetta delle oscillazioni del portafoglio più contenute bisogna inventarsi sempre di più delle alternative proprio perché i bond europei e i bond americani hanno rendimenti bassissimi quando non negativi quindi se protratti nel tempo gli investimenti a tasso zero o negativo non proteggono nemmeno dall'inflazione oppure diventano speculativi come un'azione per cui si compra per rivendere più alto ecco in questo panorama sono intervenuto un movimento delle valute che secondo me rende interessanti i paesi emergenti ovvero il dollaro si è indebolito e l'euro è salito quindi l'investitore in euro senza nemmeno rendersene conto in molti casi ha già guadagnato nel senso che l'euro vale più di prima se cambiato in altre valute quindi secondo me da qui alla fine dell'estate abbiamo visto che in diversi momenti anche nel 2019 c'erano stati dei minimi di diverse valute di paesi emergenti questa cosa si sta di fatto verificata e si sta verificando anche adesso seppur addirittura su nuovi minimi delle valute emergenti e quindi questo crea l'opportunità per chi è in euro di cambiare in parte degli euro per investirli in valute con rendimenti più alti per parlando appunto di rendimenti dipende ovviamente dalla durata dell'investimento però si va da rendimenti che si aggirano intorno tra il 4 e mezzo e il 5 e mezzo per cento con durate inferiori ai dieci anni quindi tra i sei dieci anni poi dipende dall'area geografica però con il dollaro che si è indebolito è un qualcosa di positivo per i paesi emergenti perché normalmente i paesi emergenti si indebitano in dollari quindi se il dollaro vale meno ovviamente diventa più facile ripagare il debito quindi il problema di non riuscire a ripagare il debito vedere una valuta che si rafforzava come negli ultimi anni ora non c'è più anzi c'è l'opportunità contraria. Bisogna sempre specificare che quando si parla di consigli di investimento bisogna tenere presente che poi bisogna personalizzare questi investimenti o questo approccio all'investimento bisogna cercare di capire qual è la nostra volontà di rischiare o meno Andrea questi sono consigli sempre mirati però se dovessi chiederti anche con un sorriso se per una sorta di va de me con dell'investitore perfetto vale la pena appunto monitorare questi movimenti di cui tu parlavi e quindi dando uno sguardo nel corso di quest'estate ai bond emergenti. Secondo me sì anche perché appunto il problema che riguarda tutti gli investimenti sia ormai in dollari che in euro è il fatto che appunto che con i rendimenti zero qualsiasi minimo errore è difficilissimo recuperarlo. Viceversa ecco con dei rendimenti più alti che possono essere appunto se si va dalla Cina che intorno al 3% ad altri paesi emergenti diciamo di media tra il 4,5 e il 6% a seconda delle aree geografiche qualora appunto ci fossero delle oscillazioni valutarie o comunque un ingresso non perfetto sia almeno un cuscinetto che è quello del rendimento che proviene dai bond per ammortizzare anche qualche piccolo errore. Poi ovviamente come giustamente hai fatto notare tutto va valutato in base al profilo di rischio dell'investitore sia nell'opportunità di investire o meno su questi tipi di strumenti sia ovviamente nelle quantità. Devo dire ecco dall'altra parte che investire in bond con dei costi comunque che ci sono sia di transazione sia di prodotti gestiti che costano in euro a questo punto diventa sempre più difficile quindi tutto sommato e quello che sta succedendo di fatto che dei flussi stanno muovendosi dall'euro che è salito e dal dollaro comunque che è investito dalla pandemia e quindi potrebbe svalutarsi ulteriormente stanno defluendo da queste valute per andare nei paesi emergenti. Anche questo è un segnale cioè gli investitori grossi che stanno iniziando a riposizionarsi su questi paesi. Tu giustamente sei sceso più nel dettaglio e io metto in evidenza tre regole base quando si parla di investimento naturalmente la valutazione del capitale che vogliamo mettere a disposizione dei nostri investimenti, la propensione al rischio quindi quello che siamo disposti a rischiare quindi a mettere sul tavolo e poi in ultimo ma non in ultimo affidarsi a persone che possono consigliarci al meglio quindi il fai da te quando si parla di investimento è sempre abbastanza precario no Andrea? Sì concordo assolutamente anche perché appunto i mercati stanno diventando sempre più correlati e più complessi quindi effettivamente avere un supporto esterno per le decisioni di investimento può essere d'aiuto. Grazie Andrea De Gaetano come sempre per i consigli di investimento. Grazie mille a voi. Queste sono le pillole formative e informative delle fonti tv grazie per essere stati con noi alla prossima.